9 maggio 1978, basta la data evocare uno dei momenti più bui e allo stesso tempo decisivi per la Repubblica Italiana, il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, segretario della Democrazia Cristiana. Una storia indagata e raccontata, ma che ha ancora molto da comunicare. L'ex ministro dei Trasporti e del Mezzogiorno, Claudio Signorile, impegnato durante quei fatidici 55 giorni a seguire per conto del Partito Socialista l'evoluzione del sequestro, ha presentato il suo ultimo libro, Il caso Moro tra politica e storia, nell'ambito della rassegna a storie italiane nella libreria Il Ghigno di Molfetta. A dialogare con Signorile, Gero Grassi, componente della commissione d'inchiesta sul caso Moro, nell'opera, realizzata a quattro mani con Simona Colarizzi, vengono spiegate e analizzate le ripercussioni sulla politica del sequestro Moro. L'assassinio avviene in un contesto internazionale che in qualche maniera ne garantiva gli equilibri. Noi vivevamo in un sistema politico segnato da un bipolarismo ideologico, cioè pregiudiziare, non legato né a programmi né obiettivi, legato invece fortemente all'appartenenza, l'appartenenza al mondo sovietico, l'appartenenza all'Occidente democratico. Non è, ripeto, un atto criminale, un assassino politico, come tutti gli atti politicamente rilevanti ha delle conseguenze, la conseguenza è stata che è cambiata la storia.